Un primo passo attraverso lo sport più amato per arrivare a far fronte comune tra due territori e due comunità solo apparentemente distanti. E' l'obiettivo che si è prefissato la Proloco Villa Mare Vibonati nell'organizzare il primo torneo di calcio intitolato Città del Golfo Vallo di Diana, in programma a Vibonati domenica 24 e lunedì 25 aprile 2016. Cinque le squadre, tutte della categoria allievi, che prenderanno parte alla kermess sportiva, messi in piedi con il patrocino del comune di Vibonati. A.S. Alfanese, A.S.D. Cilento Accademi, A.S.D. Antonio Corcione Padula, A.S.D. Lentiscosa, Polisportiva Pixus 2002. Tutte le gare si disputeranno sul banto d'erba sintetica dello stadio Valentino Mazzola di Vibonati. Domenica 24 aprile il via alle ore 10 con una mini cerimonia d'apertura, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari del Golfo di Policastro e del Vallo di Diana. Quindi inizierà la fase eliminatoria. Le due finali del torneo, terzo quarto e primo secondo posto, si terranno lunedì 25 aprile, rispettivamente alle 17.30 e alle 19.00.